Domenica prossima si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Isernia, due le liste in competizione, la prima insieme per la provincia che fa riferimento al centro-sinistra e la seconda autonomia ed entità di riferimento del centro-destra. Attualmente il Consiglio Provinciale è composto da sei consiglieri del centro-destra e quattro del centro-sinistra oltre al presidente Daniele Saia. Si voterà dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Immediatamente si procederà allo spoglio. Questi nomi dei candidati consiglieri. Per la lista insieme per la provincia sono candidati Giuseppe Centracchio, Sara Ferri, Rosanna Ficco, Francesco Lombardi, Franco Marco Vecchio, Pierluigi Pacitti, Candido Paione, Riccardo Prete e Anna Russo. Per la lista di centro-destra i candidati sono Anna Barile, Domenico Chiacchiari, Stefania Colardo, Linda Gallolio, Nicola Di Biase, Claudio Falcione, Gianni Ferrante, Cesare Pietrangelo, Angela Perpetua e Manolo Sacco.